Kate Middleton ha brillato nella serata dei BAFTA presentandosi con l'abito bianco rivisitato di Alexander McQueen stesso abito che aveva indossato un anno prima durante la stessa cerimonia ma ciò che ha impressionato molto i fan nel suo look sono stati gli orecchini economici di Zara da 18 euro è stato un altro però il dettaglio che ha fatto discutere di lei la pacca sul sedere di Williams che tutti hanno notato un gesto di affetto molto intimo e divertente che ha stupito tutti considerando che Lady Middleton ha sempre seguito in modo ferreo la regola non scritta imposta dalla regina Elisabetta cioè di non mostrare mai i propri sentimenti in pubblico evitando atteggiamenti e comportamenti che indichino troppa confidenza ma Kate si è proprio lasciata andare e per quanto la principessa l'abbia fatto con delicatezza e col sorriso sulle labbra in tono scherzoso e affettuoso non ce lo saremmo mai aspettati da un reale William ha reagito al gesto della moglie sorridendole e alzando la mano apparentemente divertito che i reali abbiano finto armonia e spensieratezza non ce lo saremmo mai aspettati da un'abbia non ce lo saremmo mai aspettati da un'abbia ma